buongiorno a tutti grazie di essere con noi anche questa mattina oggi parliamo dell'elfone dello sport si chiama di fare un punto della situazione alla luce della recente approvazione da parte del consiglio dei ministri del decreto correttivo il decreto legislativo 36 con me vedete l'avvocato Biaso Giancola che con me sarà correlatore di questo di questo intervento sarà quindi a lui una parte sarà dedicata una parte diciamo del intervento a me la parte diciamo iniziale quindi la partenza la partenza e l'inquadramento generale della 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 riforma per poter parlare della riforma dobbiamo però necessariamente partire dalla situazione attuale perché credo non si possa parlare della riforma dello sport fin tanto che non si abbia chiara contezza di quella che è la situazione attuale situazione attuale che è molto diversa al di là per i problemi che conosciamo di covid di utenze eccetera che è molto diversa da quella che era presente qualche anno fa perché vi dico questo vi dico questo perché fra dicembre duemilaventuno e gennaio duemilaventidue la corte di cassazione con trentasette sentenze ha completamente rivoluzionato o se volete rivisto quelli che erano i criteri di applicazione della disciplina sui compensi sportivi e coloro che noi siamo stati abituati diciamo così anche perché no fuori viati forse da qualche documento di prassi amministrativa siamo stati abituati a ricomprendere all'interno dei famosi compensi sportivi i famosi diecimila diecimila euro tanto per intenderci qualsiasi tipo di attività retribuita venisse svolto in favore del nostro del nostro centro sportivo bene così non è più anzi oserei dire e questo forse il problema più serio così non è mai stato più alla luce di questo insegnamento della cassazione cioè il problema è che secondo la giurisprudenza avvallata anche da due recentissime sentenze del settembre di quest'anno della Corte d'Appello di Roma e della Corte d'Appello di Milano la collaborazione sportiva per come l'abbiamo conosciuta per come abbiamo disciplinato fino ad oggi la maggior parte diciamo così dei dei compensi non esiste non è mai esistita perché il compenso sportivo da reddito diverso ossia il compenso sportivo previsto l'articolo 67 prima comma lettera M del Tuer è un compenso che secondo questi recenti insegnamenti della giurisprudenza può essere conosciuto esclusivamente per attività svolte in maniera dilettantistica cioè per diletto quindi non come attività professionale prima del soggetto quindi chiunque di voi chiunque fosse in ascolto che svolge l'insegnamento comunque l'attività sportiva o di dirigente o come istruttore o come allenatore o come tecnico in via principale anche se non esclusiva anche se per più centri bene già oggi non può più applicare la disciplina dei compensi sportivi ma la cosa ben più grave è che non può essere non avrebbe potuto applicarla neanche nel passato questo è un segnale che fa fatica a uscire fuori per cui si vede la riforma dello sport i cui primi accenni o comunque sui cui primi contenuti ormai eh sono già state fatte parecchie parecchi articoli parecchie comunicazioni viene vista spesso e volentieri come un aumento di costi quindi un aumento di adempimenti un aumento diciamo così di impegno da parte del club già si sente dire capito non possiamo più avere collaboratori per più di 5 mila euro cose di questo genere cercheremo di smentire di smentire i fatti ma più che altro il concetto che vorrei che venisse evidenziato il concetto che vorrei che da subito diciamo così partisse è un concetto è un concetto importante ed è il concetto capito di dire attenzione che la riforma fa risparmiare rispetto all'oggi non fa spendere più soldi ecco perché si è molto insistito da parte diciamo così di noi tecnici sul fatto che la riforma venisse approvata in tempo venisse approvata in tempo breve sul fatto che la riforma venisse venisse diciamo così approvata e entrasse in rigore del primo gennaio perché in questo momento noi ci troviamo di fronte al fatto che qualsiasi forma di compenso sportivo 10.000 euro riconosciuto a un soggetto che non svolge questa attività in via principale è un soggetto capito che non può essere pagato con quella somma sotto questo profilo vi ricordo che l'incipit dell'articolo 67 primo comma letto del tuo esso unico all'imposto sui redditi ci dice appunto che non possono essere considerati i redditi diversi i redditi che derivano da collaborazione dall'esercizio di altre professioni o dal svolgimento di un'attività di lavoro subordinato quindi in tutti quei casi in cui c'è dipendenza beh attenzione attenzione capito che non può essere applicato il compenso sportivo in tutti quei casi in cui c'è un esercizio professionale non può essere applicato un compenso sportivo quindi le situazioni in cui oggi possiamo applicare il compenso sportivo come vi dicevo sono limitate la situazione che nascerà con l'intento del correttivo sarà probabilmente quella di avere più certezze per quello che riguarda diciamo così queste forme queste forme di compenso detto quindi che il primo passaggio è attenzione che oggi la situazione è una situazione che non consente più di vedere il riconoscimento del compenso sportivo vediamo cosa accade del primo gennaio dal primo gennaio ammesso che la riforma entri in vigore il primo gennaio vi ricordo che comunque il parlamento ha sempre titolo per fare eventuali ulteriori rinvii per cui potrebbe anche accadere capito che la riforma venisse ulteriormente rinviata non possiamo non possiamo saperlo comunque dal primo gennaio cosa accadrà bene il primo gennaio sostanzialmente la riforma fa un ragionamento che divide il lavoro sportivo in quattro grandi in quattro grandi settori abbiamo un primo settore che è quello del volontariato o quello dell'attività bagatellare quindi tutte quelle associazioni o solitari sportive direttantistiche che si avalgono di volontari intendosi con tale termine coloro i quali non percepiscono alcun tipo di compenso per l'attività che svolgono o comunque riconoscono a queste persone dei compensi non superiori a 5.000 euro o comunque riconoscono esclusivamente il rimborso delle spese vive e ripeto sottolineo vive di trasferte sostenute e o comunque riconoscono solo dei premi in relazione a risultati o a traguardi agonistici raggiunti bene in questo caso noi non abbiamo alcun tipo di aggrave ulteriore potrebbe esserci soltanto una piccolissima giunta ma stiamo parlando di qualche decina di euro per quello che potrebbe essere la copertura e mail in presenza di collaboratori che percepiscono fino a 5.000 euro ma quindi ripeto e questo è un primo punto che vorrei che venisse ricepito in maniera chiave netta per tutte quelle realtà in cui ai collaboratori non viene riconosciuto alcun compenso e o comunque viene riconosciuto il rimborso spese vive di trasferte e o comunque viene riconosciuto esclusivamente un premio in relazione ai risultati agonistici raggiunti in questo caso il premio soggetto una ritenuta secca del 20 per cento e o comunque viene riconosciuto diciamo così un compenso fino a 5.000 euro bene per questa realtà non cambia assolutamente nulla sulla base dei dati statistici che possediamo quindi sulla base del dei dati che ci ha fornito l'agenzia dell'entrata che ci ha fornito sport e salute questo significa ricomprendere in questa area in cui rispetto ad oggi non cambierà assolutamente nulla e ci tengo a dirlo e a ripeterlo perché purtroppo stanno arrivando delle informazioni assolutamente deviate rispetto a quest'area in cui non ci sarà alcun costo alcun costo ulteriore quest'area che ricomprende l'ottanta per cento dei collaboratori retribuiti nel senso che i dati che ci sono stati forniti da sport e salute dall'agenzia delle entrate dimostrano che l'ottanta per cento dei collaboratori retribuiti è nella fascia fino a 5.000 euro detto questo vediamo cosa accade nel caso in cui i compensi siano superiori quindi nel caso in cui venga riconosciuto un compenso superiore ricordo anche che i 5.000 euro così come accadeva nei vecchi 10.000 della disciplina di gente oggi sono per percipiente quindi non sono legate al fatto cioè io non è che se lavoro in tre palestre e prendo 5.000 euro da ognuna delle palestre godo delle sanzioni perché se io lavoro in tre palestre e prendo 5.000 euro da ognuna delle palestre in realtà ho incassato 15.000 euro quindi i 5.000 euro hanno lo stesso meccanismo dei 10.000 quindi sono unitari legati al periodo di imposta del percipiente quindi è chi riceve chi riceve questi soldi che deve calcolare se li ha superati o meno come sapere se li ha superati beh è evidente la disciplina lo prevede il decreto correttivo lo prevede al momento del pagamento dell'importo il percipiente dovrà dichiarare alla sd alla ssd alla federazione che eventualmente gli riconoscesse questo importo dovrà dichiarare di aver superato i 5.000 euro e quindi in questo caso di essere passato nella fascia nella fascia successiva nella fascia diciamo che va dai 5.000 ai 15.000 euro quando passiamo nella fascia successiva qui dobbiamo fare una serie di considerazioni un po più ampie la prima considerazione da fare è attenzione che qui dobbiamo dividere l'aspetto previdenziale fiscale dall'aspetto prettamente lavoristico in quanto la vera rivoluzione che è figlia della legge delega quindi figlia dell'articolo 5 della legge 86 del 2019 la vera rivoluzione è data dal fatto che chiunque percepisce compensi nel mondo sportivo è un lavoratore sportivo o meglio e qui ho commesso forse un errore non sono tutti i lavoratori sportivi ma sono lavoratori sportivi soltanto quelli che sono espressamente riconosciuti come tali della legge e quindi allenatori istruttori atleti dirigenti tecnico sportivi del direttore sportivo o comunque coloro i quali sono addetti a funzioni espressamente riconosciute come sportive dall'ente affiliante dall'ente che ha provveduto a riconoscimento ai fini sportivi quindi è confermato così come del resto accadeva anche oggi per l'articolo 67 che non potranno essere ricomprese fra la disciplina che vi sto raccontando quindi non potranno essere inserite all'interno della disciplina che vi sto raccontando attività come l'ha detto le pulizie come la custodia come la guardiania come le manutenzioni quindi attenzione che queste funzioni già oggi erano esterne all'articolo 67 rimangono tuttora esterne alla disciplina del compenso sportivo quindi del lavoro sportivo quindi nel caso in cui io abbia degli addetti alle manutenzioni dei custodi degli addetti alle pulizie dei manutentori bene in questo caso dovrà fare riferimento a quelle che sono le norme generali del diritto del lavoro quindi saranno le norme generali del diritto del lavoro capito che applicheranno che disciplineranno questo tipo di rapporto torniamo ai nostri lavoratori sportivi quindi vi dicevo lavoratore sportivo è colui il quale svolge un'attività a titolo oneroso con continuità in un in un settore dichiarato da lavoro sportivo espressione dalla norma quindi nel nostro caso per almeno per quella che è la platea dei potenziali ascoltatori di oggi stiamo parlando degli allenatori dei tecnici degli istruttori perché no degli atleti abbiamo quindi visto la prima fascia fino fino a 5 mila euro vediamo invece cosa accade nella seconda fascia la seconda fascia come vi dicevo quella che va dai 5 ai 15 mila euro qui diciamo c'è forse la parte più innovativa rispetto rispetto al passato parte più innovativa perché perché per la fascia da 5 a 15 mila euro noi avremo un assoggettamento a ritenuta previdenziale ma non avremo un assoggettamento a ritenuta fiscale quindi praticamente nella fascia tra 5 e 15 mila euro l'obiettivo che si voleva raggiungere era esclusivamente un obiettivo di tutelare il lavoratore sportivo quindi diciamo l'erario ha fatto un passo indietro quindi ha accettato di aumentare la defiscalizzazione dai 10 ai 15 mila euro per favorire comunque diciamo così la sistemazione dei lavoratori sportivi quindi nella fascia da 5 a 15 mila euro noi avremo la copertura legata al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi sotto questo profilo poi lascerò la parola all'avvocato Giancola il quale ci dirà cosa significa copertura cosa significa quindi cosa guadagna rispetto ad oggi il il concetto è nel momento in cui la mia associazione sportiva per me che percepisco più di 5 mila euro mi paga i contributi assicurativi questi contributi assicurativi cosa mi danno e questa è una verità assoluta perché questa è una garanzia che fino ad oggi capito noi non avevamo mai avuto che lavoratore sportivo non aveva mai avuto e quindi il fatto di poter in qualche modo mi viene in mente la maternità ma evidentemente sono di più e l'avvocato Giancola poi ci illustrerà ben meglio di come possa fare io in questo momento bene attenzione quindi il lavoratore sportivo ci darà avrà diritto a qualcosa che prima non aveva quindi la vera conquista della riforma è stata proprio quella con costi e poi ne parleremo assolutamente compatibili con quella che è la realtà di oggi rispetto a quelli che sono i guadagni o comunque i vantaggi più che guadagni i vantaggi che il lavoratore sportivo nel lavoratore sportivo tiene la vera novità è questa va anche detto che in questa fascia da 5 a 15 mila euro per i primi cinque anni dall'entrata in vigore della riforma il contributo previdenziale non è calcolato sull'intero importo percepito ma è calcolato sempre diciamo così per avvantaggiare il lavoratore avvantaggiare diciamo ridurre i costi complessivi è calcolato solo sul 50 per cento del percepito quindi di fatto è come se le eliquote previdenziali fosse ridotto del 50 per cento attenzione che questa riduzione del 50 per cento noi le avremo solo per le eliquote previdenziali non le avremo invece per le eliquote assistenziali quindi diciamo così l'assistenza sarà garantita pagando sull'intero importo percepito quindi il 50 per cento solo per le ritenute previdenziali ha ridotto assistenziali sull'intero importo questo per i primi cinque anni è entrato in vigore poi evidentemente il contributo previdenziale sarà calcolato sull'intero sull'intero importo percepito ma diamo un po' anche un'idea di quello che potrebbe essere questo costo perché una delle situazioni uno dei ragionamenti che vengono sempre fatti è la riforma è costosa è chiaro l'abbiamo già detto prima se noi la confrontassimo con la vecchia disciplina dei compensi sportivi probabilmente potrebbe anche esserla ma in realtà dobbiamo confrontarlo con la situazione che deriva come vi ho illustrato dalle sentenze della Cassazione e quindi qui evidente ci troviamo una situazione completamente diversa da quella che poteva essere da quella che poteva essere quindi mi dicevo facciamo un esempio prendiamo un istruttore che percepisca 10.000 euro abbiamo detto che non ha ritenute fiscali così come non li aveva oggi quindi sotto questo profilo non ci sono non ci sono non ci sono conseguenze a ritenute previdenziali bene l'eliquota previdenziali prevista per la collaborazione coordinante continuativa ammesso che in questo caso si debba parlare di collaborazione coordinante continuativa poi ci torneremo sotto questo sotto questo profilo l'eliquota prevista del 25 per cento se io se non ho altro lavoro del 24 per cento se io ho un'altra attività un'altra attività professionale o comunque un'altra attività per la quale ho una copertura previdenziale in essa diciamo 25 detto la metà 12 e mezzo aggiungiamoci un 05 di email aggiungiamoci aggiungiamoci un 202 di contributi assistenziali quelli su cui ripeto poi tornerà l'avvocato Giancola abbiamo circa un 15 per cento abbiamo che il contributo si calcola a partire dai 5.000 euro quindi il soggetto che oggi percepisce 10.000 euro avrà un maggior costo annuo volendo mantenere il netto 10.000 euro capito al lavoratore avrà un maggior costo di 750 euro a fronte dei vantaggi che vedremo quindi diciamo 70 euro al mese per per lavoratore che percepisce 10.000 euro 7 per cento tanto poco ognuno evidentemente capito poi dopo lo potrà lo potrà valutare a nostro avviso a mio avviso rispetto ai vantaggi commessi con con questa novità è una cifra diciamo così assolutamente 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 compatibile ma anche detto che ora parlassimo di collaborazione coordinante continuativa questo tutto questo 750 euro ricadrebbero per due terzi a carico della società sportiva o comunque del dottore di lavoro per un terzo invece come trattenuta sul compenso percepito quindi in realtà volendo fare le cose diciamo così come devono essere fatte il lavoratore che oggi percepisce 10.000 euro domani ne percepirà 9.750 perché 250 euro diciamo così dovrà essere la sua quota di versamento previdenziale alla società sportiva l'aumento sarà ancora inferiore evidentemente in questo caso perché la società sportiva ricosterà 10.500 euro quindi di fatto applicando correttamente la rivalsa del terzo sul lavoratore il maggior costo per la società sportiva è il 5 per cento quindi diciamo e questo per esempio 10.000 se anche facessimo esempi diversi in questa fascia più o meno ci troviamo in questo in questo livello di percentuale quindi diciamo che sostanzialmente fino a 15.000 euro nel caso in cui io applicassi correttamente la norma e quindi mi rivalesse sul terzo sul lavoratore il maggior costo per le strutture sportive direttantistiche si aggira sul 5 6 per cento se volessi comunque garantire al lavoratore lo stesso terzo quindi accollando mio datore di lavoro anche il terzo dato al lavoratore siamo nell'ordine dell'8 9 per cento questo è l'incremento che deriva diciamo così da questo da questo tipo da questo tipo di attività a fronte di una serie di vantaggi cosa accade invece sopra i 15.000 euro sopra i 15.000 euro partono le ritenute fiscali sono fiscali che partono sopra i 15.000 euro quindi non ci sarà più il 23 per cento più le addizionali ma diciamo così sarà la ritenuta legata al tipo di rapporto in essere per la parte eccedente 15.000 euro ma quindi da 15.000 in su quindi già qui avremo comunque anche rispetto alle vecchie collaborazioni sportive un vantaggio perché mentre nelle vecchie collaborazioni sportive comunque le ritenute si applicavano anche nella fascia dei 10 e 15.000 oggi queste ritenute non si applicano più nella fascia da 10 e 15 quindi da 15.000 là in su a trovare un'applicazione delle ritenute fiscali mentre evidentemente proseguirà l'applicazione delle ritenute previdenziali con lo stesso tipo di ragionamento e quindi e quindi 50 per cento del compenso per i primi cinque anni detto questo vanno tenute presenti però una serie di ulteriori considerazioni perché perché qui avremo un problema che se vogliamo è lo stesso problema che in parte è quello che stiamo vivendo ora ossia la necessità di inquadrare questo tipo di rapporto perché sostanzialmente nella fascia diciamo così eccedente i 5.000 euro quindi quando la prestazione assume una valenza lavorativa a tutti gli effetti colori quali precipiscono questi denari sono tutti gli effetti considerati dei lavoratori e per essere lavoratori quindi c'è necessità di un loro inquadramento che evidentemente potrà essere di lavoro autonomo di lavoro subordinato di collaborazione combinata e quindi il problema è io devo andare a verificare qual è questo tipo di inquadramento qual è questo tipo come devo andare a classificare per molto tempo si era spinto nel tentativo di classificare questo tipo di prestazione in un unico modo per evitare che ci potesse essere diciamo così delle contestazioni ci potessero essere un po' delle conflittualità all'interno all'interno del club in un tempo purtroppo non è stato possibile come ci si auspicava andare a tipizzare questo tipo di rapporto perché la corte costituzionale in più sentenze ha dichiarato l'indisponibilità del rapporto di lavoro subordinato questo cosa sta a significare sta a significare che non è possibile qualificare in maniera diversa quello che è a tutti gli effetti un rapporto di lavoro subordinato quindi se c'è tro direzione se c'è dipendenza se c'è psicologo erarchico questo sarà comunque un lavoro subordinato se fosse un lavoro subordinato attenzione che il lavoro subordinato sportivo direttantistico ha una distinzione rispetto al lavoro autonomo alla collaborazione a coordinata continuativa il lavoro subordinato sportivo direttantistico innanzitutto ha un'aliquota previdenziale più alta perché ha il 33 per cento e non il 25 per cento e in più i contributi non andranno versati alla gestione separata come invece accade per il lavoro autonomo e per la collaborazione continuativa ma andranno versati bensì alla gestione separata scusate scusate alla gestione spettacolo la gestione ex impasse tanto tanto per intenderci ma proprio per cercare diciamo così di ricadere il meno possibile in questa in questo rischio cioè di evitare di cadere il meno possibile nel rischio del rapporto di lavoro subordinato il correttivo ha delineato due due aspetti ha diciamo così rimarcato dico rimarcato perché in realtà il decreto originale l'aveva cancellata quindi ha recuperato l'eccezione che era prevista per associazione sportiva direttantistica a una norma articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 81 2015 job act in cui veniva previsto che le attività coordinate per quello che riguarda i tempi luoghi della prestazione dal d'attore di lavoro forse rapporto di lavoro subordinato ecco questa presunzione non si applica al mondo dello sport direttantistico assodato a questa questa presunzione non si applica al mondo sport direttantistico è stato introdotto un ulteriore vantaggio un'ulteriore norma che prevede che per quelle collaborazioni sportive di durata inferiore alle 18 ore settimanali al netto di eventuali prestazioni agonistiche quindi 18 ore nette di allenamento quindi senza 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 contare il tempo della partita bene in questo caso se le attività vengono fatte secondo le direttive delle federazioni di appartenenza bene in questo caso questo per questa attività si presume l'esistenza di una collaborazione le coordinate continuative quindi diciamo così c'è un'agevolazione perché c'è una qualificazione ex legge del rapporto che che rimane entro 18 ore settimanali ma anche sotto questo profilo si è avuta una comunicazione non corretta perché abbiamo letto c'è un limite delle 18 ore la collaborazione non può superare 18 ore ma non è da nulla la collaborazione può arrivare anche a 30 40 40 ore settimanali il problema è che fino a 18 ore noi abbiamo la presunzione legislativa che trattasi di collaborazione coordinante continuativa nella fascia cedente si dovrà andare a verificare che sussistono i requisiti per poter qualificare come collaborazione coordinante continuativa la tipologia del rapporto quindi sotto il 18 ore andiamo un po la cieca cioè è sempre così sopra i 18 ore invece dovremmo andare a valutare esattamente questo per valutare esattamente questo abbiamo poi comunque delle strade che ulteriormente ci possono confortare o ci possono aiutare nella fascia diciamo così di supero del 18 ore la circostanza che ci può aiutare è la certificazione del rapporto di lavoro ossia è possibile attraverso a poste delle commissioni di certificazione pubbliche istituite istituite per legge è possibile che un soggetto terzo attesti che effettivamente quel tipo di rapporto è una collaborazione coordinante continuativa evidentemente a priori e quindi sulla base del testo del testo del contratto poi se a quel punto se effettivamente venisse rispettato il testo di quel contratto certificato allora diciamo che abbiamo la quasi certezza che anche in un eventuale contenzioso in un eventuale giudizio quel rapporto sarà considerato effettivamente di collaborazione coordinante continuativa quindi io credo che ridugendo contratti diciamo idonei e gestendo però il rapporto di lavoro anche con le modalità della collaborazione coordinante continuativa anche nel caso in cui questo tipo di rapporto avesse una durata superiore alle 18 ore settimanali ben venga ben venga che sia comunque qualificato come collaborazione coordinante continuativa l'alternativa alla subordinazione alla collaborazione coordinante continuativa è sicuramente l'esercizio ad altre professioni quindi la partita IVA quindi nulla vieta a un lavoratore sportivo di aprire partita IVA di utilizzare i vantaggi che sono oggi previsti per le partite IVA diciamo forfettari quindi per le partite per le partite IVA semplificate e quindi comunque nel momento in cui io faccio attività magari per più palestre nel momento in cui io faccio attività diciamo così per più per più centri sportivi nulla mi vieta diciamo così di aprire la mia partita IVA e di godere comunque anche con la partita IVA delle agevolazioni o comunque di tutti i criteri che vi ho raccontato previsti per tutti gli altri lavoratori sportivi devo dirvi che il decreto ha anche delle conseguenze che devono essere valutate per i pubblici dipendenti perché il pubblico dipendente che lavorasse anche in favore di un centro sportivo sarà necessario che verifichi perché se non percepisce nulla per questa attività per l'attività che fa nell'ambito dell'attività sportiva allora sarà sufficiente che darà comunicazione al proprio superiore gerarchico dell'attività che va a svolgere. Se invece per il pubblico dipendente questa attività fosse a titolo oneroso remunerata e purtroppo abbiamo il problema del divieto del doppio lavoro per i pubblici dipendenti e quindi in questo caso il pubblico dipendente dovrà essere espressamente autorizzato a svolgere questa attività sportiva. Capisco che questa potrebbe essere una complicazione rispetto al passato ma una complicazione sulla quale purtroppo non c'è possibilità diciamo così di uscita o di venirne fuori perché è legata alla qualificazione come lavoratore dello sportivo, qualificazione che ricordo parte addirittura dalla legge dell'eliga quindi dalla legge 86-86 del 2019. Quindi il quadro di riferimento per quello che riguarda il lavoro sportivo è sostanzialmente questo. Va detto che a tutti i lavoratori potranno essere riconosciuti dei premi premi legati diciamo così alla classificazione premi legati diciamo così al risultato agonistico raggiunto in questo caso per quello che riguarda i premi questi non entreranno nel reddito dei precipienti quindi non entreranno negli scaglioni che abbiamo detto prima ma saranno tassati alla fonte con una ritenuta del 20% da parte del soggetto erogatore a essensi di quanto previsto dall'articolo 30 l'IPR 600 e il 73. Ma un'altra delle osservazioni che veniva fatta è ma attenzione questo significa adempimenti anche sul problema adempimenti diciamo così abbiamo cercato abbiamo tentato di lavorare dico abbiamo perché io ho dato anche un mio contributo diciamo così alla redazione di questo decreto correttivo abbiamo cercato di lavorare e quindi la comunicazione iniziale non avverrà nei confronti del ministro del lavoro ma avverrà nei confronti del registro dell'attività sportiva vi ricordo che dal primo settembre è operativo il nuovo registro dell'attività sportive attivato presso il Dipartimento dello Sport e la Presidenza del Consiglio dei Ministri così come per la fascia fino a 15.000 euro il registro dell'attività sportiva sostituirà tutti gli effetti il libro paga quindi non dovremmo fare i celerini paga e quindi anche sotto questo profilo anche per quello che riguarda l'aspetto formale sicuramente questo è un vantaggio va anche detto che evidentemente ma questo credo che ogni palestra ogni centro sportivo ogni associazione di danza vi abbia già provveduto c'è un problema di sicurezza sul lavoro quindi dovremmo andare a redire il documento di votazione ai rischi quindi tutta quella che è la disciplina evidentemente della sicurezza sul lavoro deve trovare e mantiene la necessità di essere applicata in un ragionamento di questo tipo detto questo io lascerei la parola all'avvocato Giancola così chiudiamo la parte del lavoro sportivo poi me la restituirà fra un quarto d'ora e venti minuti quando avrà finito il suo intervento perché così vedremo invece quelle che sono le altre novità che riguardano il decreto correttivo grazie grazie avvocato Martinelli sempre chiarissimo riprendo quello che dicevi per fare una piccola disamina di quelli che sono i contributi aggiuntivi che comunque rappresentano delle importanti tutele per i lavoratori dello sport di fatto è una novità assoluta perché finalmente avranno le tutele al di là di quello che sono quei costi perché se ragioniamo in termini dei collaboratori coordinate e continuativi come hai ben detto prima ci sono delle contribuzioni aggiuntive che raggiungono per il COCOCO un 2.02 che sono 1,31% la DISCOL e lo 0,72 i contributi per la maternità ANF gli assegni nucleofamiliari e la malattia ma questi non rappresentano solo dei costi di fatto per il COCOCO ma rappresentano delle tutele questi contributi sono due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore che ha la gestione separata in questo caso ma cosa è ad esempio la DISCOL di fatto è un'indennità mensile di disoccupazione quindi per la prima volta i lavoratori del diritto nel settore sportivo hanno una tutela su quella che è la disoccupazione quindi non c'è la NASPI ma c'è la DISCOL che con 3 mesi di contributi quindi con 1,31% versato per 3 mensilità di fatto hanno un'indennità di disoccupazione che può avere un tempo un periodo massimo di 6 mesi e un'indennità massimo di 6 mesi perché è calcolata può essere versata per massimo la metà del periodo contributivo quindi se ha un periodo contributivo che arriva almeno a 12 mesi può arrivare a 6 mesi di indennità se è inferiore a 12 mesi quindi 4 mesi 8 mesi di 10 mesi di attività quello che è un anno sportivo di fatto avrà una disoccupazione che su 10 mesi sarà pari a 5 mesi di indennità è un'indennità che è calcolata sì in base al rendito impolibile ma che non può scendere sotto un limite di legge che viene fissato di anno in anno che quest'anno è 1250 euro e può essere pari al 75% del minimo di 1250 euro quindi di fatto è un'indennità importante per i lavoratori sportivi che entrano in disoccupazione e di fatto questa discol è cumulabile con il lavoro occasionale quindi fino a 5.000 euro quindi rappresenta effettivamente una tutela a fianco alla tutela della discol c'è la contribuzione riferita alla maternità agli assegni in nucleo familiare alla malattia anche qui entra in un campo del tutto nuovo per i lavoratori sportivi perché in questo caso avranno in caso di malattia avranno diritto alla corrisponzione della retribuzione per 6 fino a 6 mensilità per 180 giorni di fatto che possono essere anche non continuativi all'interno dell'anno in caso di infortuni avranno gli assegni per il nucleo familiare stessa cosa ci sono gli assegni in caso di gravidanza quindi di fatto abbiamo una tutela che non è solo quella previdenziale che probabilmente è una tutela importante ma come ha anche riferito il professor Martinelli di fatto è una tutela che in base anche a quello che è l'imponibile contributivo per i primi cinque anni e poi anche successivamente di fatto può o meno superare in media quella che è l'assegno sociale ma è tutto da verificare però di fatto ci sono queste tutte le aggiuntive che sono molto importanti che permettono probabilmente anche a chi si avvicina allo sport per dare un servizio per dare una prestazione di lavoratore di avere delle certezze maggiori non essere semplicemente un appassionato ma poter ragionare su un'attività una prestazione lavorativa che possa andare avanti negli anni con tutte le tutele e queste tutele poi le abbiamo anche per i lavoratori autonomi con partita IVA perché i lavoratori con partita IVA hanno la stessa contribuzione aggiuntiva in materia di maternità agli assegni in nucleo familiare e in malattia quindi per infortuni malattia e in caso di maternità di gravidanza ma in aggiunta c'è l'ISCRO che è una indennità straordinaria di continuità reddittuale che di fatto è una novità nel panorama dei lavoratori autonomi ed è stata prevista nel bilanio legge di bilancio del 2021 con una contribuzione aggiuntiva dello 0,51% quindi mentre per il COCO abbiamo un 2.02 qui abbiamo solo un 1.23% questo a carico chiaramente del titolare di partita IVA in questo caso abbiamo una tutela che anche qui è pari fino a un'indennità per 6 mesi per ora in via sperimentale quindi si applicherà solo per il triennio 2021 o 2023 quindi anche per il prossimo anno poi verrà valutata la misura però di fatto permette un'indennità per 6 mensilità pari per il calcolo un po' particolare perché è pari al 25% del reddito annuo diviso 2 che significa facciamo un esempio se il lavoratore autonomo nel mondo sportivo percepisce un reddito annuo di 12.000 euro di fatto l'indennità mensile per 6 mesi sarà pari a 12.000 diviso 2 6.000 per 25% quindi il 25% di 6.000 euro e pari a 1.200 euro in questo caso adesso nel calcolo esatto sono 1.400 euro anzi 1.500 euro quindi avrà un'indennità per 6 mesi pari a 1.500 euro la particolarità è che dovrà affiancare a questo periodo di indennità dei percorsi di aggiornamento professionale altrimenti questa indennità non sarà non sarà erogata in fatto le domande sono tutte online tramite il sito dell'Inps e quindi anche qui abbiamo una tutela del lavoratore che è adesso in astratto ma portato nel concreto e qui tutti quelli che sono i lavoratori autonomi di fatto abbiamo finalmente la possibilità di operare nel mondo sportivo avendo anche la possibilità di avere delle un carattere non temporaneo e non precario di fatto ringrazio il professore e non ti sentiamo è ancora l'audio disattivato io ringrazio ringrazio l'avvocato Giancola e sono particolarmente stato particolarmente contento di aver fatto questo intervento oggi con lui il primo intervento che facciamo insieme spero in angolo che lo conoscerete lo conoscerete spesso perché con me stiamo ipotizzando diciamo parecchie attività abbiamo parecchia carne al fuoco insieme detto questo vediamo cosa accade dall'altra parte abbiamo dedicato questa prima parte al nostro intervento comunque vi rassicuro nel senso massimo massimo a mezzogiorno chiuderemo tutto ma proprio massimo massimo quindi non vi non vi vogliamo tediare non vi vogliamo tediare tediare più di tanto vista diciamo così la parte del lavoratore a questo punto vuole vedere nella seconda parte diciamo così di questo di questo nostro intervento la parte per la parte datoriale per se usiamo questo brutto brutto termine cioè la parte diciamo così della associazione o sottrasportivi dei tantisti abbiamo già detto che in realtà rispetto alla situazione vigente il decreto correttivo capito rappresenta un vantaggio e non uno svantaggio volevo ricordare una cosa anche ringraziando alcuni amici che ci stanno seguendo su facebook che ho visto hanno fatto anche hanno fatto alcune domande una cosa importante un primo dato esiste una sorta di mini sanatoria cosa voglio venire a dire voglio venire a dire che il decreto correttivo prevede che non si dia luogo a recupero di imposte a recupero di contributi perdono per i rapporti in essere costituiti prima dell'entrata in vigore del decreto quindi è un dato importante le sanatorie sono sempre brutte perché comunque danno una sensazione di avevamo fatto una cosa che non potevano fare e quindi viene sanata quindi è un termine che non mi piace diciamo che l'obiettivo è far sì che l'incertezza normativa chiamiamola così esistente tuttora esistente fino al primo gennaio fino al primo gennaio di quest'anno l'incertezza normativa può essere priva di conseguenze per le associazioni sottosportive e le tantistiche perché non si darà luogo diciamo così a recuperare b è un problema cogente contratti sottoscritti entro il 31 dicembre 2022 ma con effetto anche sul 2022 cosa accade per questi per cosa accade per questi contratti ad avviso di chi vi parla quindi qui evidentemente stiamo parlando solo come studio Martinelli Rogolino Giancola quindi non abbiamo nessuna ufficialità in quello in quello in quello che stiamo per dire potrebbe non accadere nulla in termini di validità del contratto è chiaro che se il contratto faceva riferimento all'articolo 67 prima comma lettera N è evidente che di diritto dovrà essere sostituito diciamo così per quello per quello che è invece la nuova disciplina del lavoro sportivo che stiamo che stiamo vedendo va anche detto che fra le tante voci che si sentono però al momento è solo una voce quindi non vorrei neanche non vorrei neanche capito che ci ludessimo o non vorrei neanche diramare notizie che poi non venissero ulteriormente confermate confermate nei fatti si parla anche del dell'approvazione di una norma che farebbe comunque salvi i contratti in essere fino fino alla loro conclusione quindi che garantisse a quei contratti eh stipulati senza articolo 67 una loro validità fino ai termini il problema vero qual è ed è il dato all'amico all'amico Lavagnini il problema il problema vero qual è è che il contratto che io oggi ho stipulato ex articolo 67 è un contratto ancora legittimo ancora prima di pormi il problema della successione del rapporto quindi ancora prima di pormi il problema di cosa accade cosa accade al primo gennaio anche perché ripeto l'ho già detto all'inizio il rinvio dietro l'angolo cioè la possibilità che l'inizio non sia il primo gennaio è una possibilità tutt'altro che remota quindi deve tenere comunque presente il problema vero è comunque il contratto che ho fatto è legittimo il contratto che ho fatto mi pone in zona franca rispetto alle conseguenze che queste possono avere e vi dirò di più quando parliamo di atleti so che magari in questo momento il pubblico degli sport di squadra è diciamo più ridotto rispetto a quello delle palestre ma parliamo un attimo dei sport di squadra quando parliamo dei sport di squadra il problema è capito ancora più serio perché perché in questo momento in assenza di correttivo abbiamo comunque l'articolo 5 della legge 86 del 2019 che afferma un principio legge perfettamente in vigore anche oggi ossia afferma il principio della unicità del lavoro sportivo sia direttantistico che professionistico quindi se in passato prima dell'articolo 5 si poteva anche sostenere che i professionisti andavano per i fatti loro e che quindi le norme sul professionismo non potessero in via analogica essere applicate anche al mondo del dilettantismo la legge 91 era una legge speciale quindi come legge speciale non poteva essere suscettibile di interpretazione analogica o estensiva l'articolo 5 della legge 86 del 2019 ci pone di fronte a una scelta precisa che è quella di dire attenzione è un unico lavoratore non ci sono due lavoratori non c'è un lavoratore sportivo direttante un lavoratore sportivo professionista c'è il lavoratore sportivo punto che opera in un settore dichiarato professionistico o che opera in un settore dichiarato dilettantista ma se c'è un lavoratore sportivo punto cosa accade accade che per l'atleta professionista c'è una presunzione di lavoro subordinato bene siamo proprio certi che questa presunzione del rapporto di lavoro subordinato dell'atleta professionista non possa come tale trasferirsi anche al dilettante beh io non sarei affatto tranquillo sotto questo profilo cioè non sarei affatto tranquillo che dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 86 del 2019 scusate della legge 86 del 2019 non ci possa essere un'applicazione in questo caso analogica della disciplina del professionismo ma anche del dilettantismo e quindi la situazione degli atleti secondo me è ancora più grave e quindi per quello che riguarda gli atleti l'importanza della dell'approvazione e dell'entrata in vigore tempestivo del correttivo è ancora è ancora maggiore va detto che temo che non ci sia da parte dei vertici del mondo sportivo un'adeguata attenzione a questi rischi capito che il mondo sportivo invece sta effettivamente correndo in questa interpretazione delle norme altro punto importante la novità è la cessazione del regime del vincolo anche qui riguarda prevalentemente gli sport di squadra va però letta correttamente cessazione del rapporto del vincolo cos'è? Cessazione della possibilità di rinnovare unilateralmente il tesseramento della sua scadenza quindi il giocatore che io tessero a gennaio 2023 mi resta tesserato tutto l'anno il giocatore che io tesserò capito adesso mi resta tesserato fino alla conclusione della stagione sportiva quindi sotto questo profilo non è che se io ho tesserato adesso un atleta il primo gennaio questo atleta è libero assolutamente no quindi sotto questo profilo tranquillità assoluta così come non confondiamo vincolo negoziale con vincolo federale quello di cui si chiede l'eliminazione anzi non si chiede quella che è stata approvata quindi quella che è già legge che è stato approvato è la cessazione di vincolo federale quindi la circostanza che una società possa unilateralmente rimavare il tesseramento capito del proprio atleta ma se questo atleta o questo tecnico se volete avesse sottoscritto un tesseramento scusate un contratto invece a carattere pluriannale bene sicuramente il contratto a carattere pluriannale mantiene la sua validità quindi attenzione sicuramente capito il contratto a carattere pluriannale mantiene la sua legittimità e quindi la sua durata dentro questo torniamo a quelle che sono le novità del provvedimento le novità del provvedimento quali sono sostanzialmente per quello che riguarda le società da prima il ripristino delle cooperative sportive quindi le cooperative sportive che hanno state dall'originario decreto spadafora poste fuori dall'ordinamento sportivo potranno ritornarci quindi si potrà continuare a parlare di cooperative sportive di retentista ma la malità più rilevante diciamo così che era già presente nell'ambito del decreto spadafora e che è stata confermata anzi ulteriormente incentivata dal decreto correttivo è la possibilità per le società sportive direttantistiche e quindi qui ricordo solo per le società sportive direttantistiche la possibilità di distribuire anche una quota percentuale di utili quindi quindi le società sportive direttantistiche potranno distribuire fino al 50% degli utili ma attenzione perché se parlassimo di società sportive che gestiscono impianti sportivi questa possibilità compatibilmente con la disciplina degli utili di stato dell'Unione Europea questa possibilità è ulteriormente incrementata fino all'80% quindi di fatto se io ho una SSD che gestisce impianti sportivi e fa un'attività di base potrei ammesso mai che si riuscisse ad averne quindi ne sono consapevole di questo ammesso mai che si riuscisse ad averne potrei riuscire a distribuire fino all'80% degli utili che produce qual è la motivazione qual è la razio perché si è arrivati a dire questo perché si è arrivati diciamo così a prevedere una possibilità di questo genere cioè si è arrivati sostanzialmente perché si spera si auspica che questa possibilità di ritorno economico possa significare anche un maggior afflusso di denari privati nel mondo dello sport nel mondo dell'impiantistica sportiva l'impiantistica sportiva ha più che mai bisogno di investimenti e più che mai bisogno di progettualità probabilmente il pubblico per come lo conosciamo e per i gli oggettivi problemi che ha non è in grado di soddisfare questa questa esigenza che l'impiantistica sportiva richiama e quindi la possibilità di dare di stornare diciamo così questo 80% sicuramente si auspica almeno nell'intenzione dell'isolatore era quello di poter garantire un maggior ritorno economico va anche detto e qui bisogna sempre vedere le medaglie dal fronte e dal dritto si tratta di capire quale sarà l'atteggiamento dell'agenzia delle entrate e quindi anche qui bisognerà attendere eventuali documenti di prassi amministrative capire quale sarà l'atteggiamento dell'agenzia delle entrate per quello che riguarda l'applicabilità delle norme fiscali che prevedono assenza di scopo di loro quindi un ssd che distribuisce utili potrà continuare a godere delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive di tantistica vedremo quale sarà la posizione che assumerà l'agenzia delle entrate importante ricordare che per poter godere delle agevolazioni fiscali adesso è indispensabile dal primo settembre essere iscritti al registro delle attività sportive chi era già iscritto al registro CONI non si preoccupi perché il trasferimento del registro CONI al nuovo registro delle attività sportive avrà automaticamente quindi diciamo così non ci sarà necessità di fare di fare domanda automaticamente diciamo così si passerà da un registro da un registro all'altro per quello che riguarda invece chi fa le nuove costituite quindi le nuove affiliazioni chi inizia chi inizia adesso bene l'iter prevede l'affiliazione e quindi presso una federazione disciplina sportiva associata un ente di pronuncia sportiva e sarà poi la federazione disciplina sportiva associata o l'ente di pronuncia sportiva che sarà il tramite per effettuare iscrizione al registro dell'attività sportiva chi si dovesse costituire oggi verifichi perché adesso ripeto il presupposto per l'agevolazione fiscale non è più l'iscrizione al registro coni ma è l'iscrizione a questo registro delle attività sportive attivato presso il dipartimento dello sport e operativo dal primo settembre dal primo settembre di quest'anno altro vantaggio importante è la possibilità dell'accessione delle quote cioè ricordate che c'era sempre stato un po' il dubbio se le SSD potessero cedere le quote se queste quote potessero essere cedute anche non al valore nominale bene diciamo che il vantaggio il vantaggio che abbiamo avuto il vantaggio di cui si parla adesso è che queste quote capito possono essere cedute anche non non al valore non al valore nominale stavo intanto vedendo stavo intanto vedendo capito alcune alcune delle domande alcune delle domande pervenute sono tante proviamo adesso allora a chiudere magari poi riservare l'ultima parte a rispondere a rispondere alle domande a domande che sono arrivate quindi vi dicevo possibilità di cessione possibilità di cessione delle quote possibilità di cessione di quote anche non al valore nominale quindi oggi come oggi a tutti gli effetti credo che questa non sia una bestemmia quella che vi sto per dire ma la gestione dell'impianto sportivo sta andando sempre più verso l'impresa quindi una gestione imprenditoriale che non significa lucrativa la riforma terzo settore è istituita l'impresa sociale quindi parlare di impresa non significa necessariamente dover parlare di impresa lucrativa parlare di impresa significa una gestione in forma di impresa una gestione che abbia un'attività economica importante bene credo che questo credo che la filosofia la filosofia anche del lavoro sia e quindi la filosofia della riforma sia stata quella di distinguere l'attività di base quindi quella che dà fino a 5.000 euro mantenerla nella filosofia del vecchio associazionismo e quindi senza dare gli oneri e quindi mi piacerebbe che venisse capito bene che per chi fa effettivamente attività sportiva di base così come si faceva ai miei tempi in cui nessuno veniva pagato io ho fatto per dieci anni l'anettore di palacanestro senza percepire una lira ho fatto per quindici anni l'istruttore di minibasket senza percepire una lira bene con quella filosofia non è cambiato nulla quindi quella filosofia continua a essere assolutamente difesa e tutelata non ci sono maggiori costi per quello che riguarda invece le attività più professionalizzanti è chiaro che nel momento in cui io prevedo un ritorno per l'imprenditore è anche giusto che garantisca un'adeguata tutela al lavoratore due altri argomenti poi ci dedichiamo invece alle risposte alle risposte i due altri argomenti quali sono una delle cose importanti è l'istituzione la ufficializzazione dei kinesiologi i laureati in scienze motori finalmente trovano una loro collocazione una loro collocazione riconosciuta nelle attività adattate quindi in quello che è il loro ruolo di professionisti è chiaro che se parliamo di sport e quindi di una pratica sportiva riconosciuta come tale allora non avremo di dubbio che ci sarà oltre la competenza del kinesiologo anche la competenza dell'istruttore patentato dalle federazioni quindi diciamo l'attività adattata l'attività di riabilitazione è un'attività che rimarrà di esclusiva competenza del kinesiologo l'attività sportiva dovrà prevedere necessariamente invece l'iscritto l'iscritto perdono colui il quale laureato in scienze amatorie o non laureato in scienze amatorie abbia una preparazione specifica per quella disciplina per quella disciplina sportiva detto questo tocchiamo un altro un altro argomento importante in questo in questo in questo quadro di riferimento l'attività sportiva deve essere principale e quindi un'altra delle valutazioni che deve essere fatta è devo andare a controllare se lo statuto della mia sd o ssd è uno statuto che prevede lo svolgente di questa attività in via principale e coloro che tutti quegli statuti che prevedono che io faccio anche sport ma poi gestivo ristorante gestivo punti vendita gestivo centri benessere gestivo centri salute evidentemente non potrà più essere così io dovrò necessariamente andare a individuare lo sport come attività principale il resto diventerà un'attività diversa non è che non posso compierla non è che non posso svolgere altre attività il problema è che sono attività diverse per cui come accade nel terzo settore queste attività diverse dovranno essere realizzate con dei limiti cioè dei limiti che impediranno di uscire dalla essenzialità del lavoro sportivo le attività diverse saranno limitate come saranno limitate in questo momento evidentemente capito non lo so evidentemente dobbiamo attendere un decreto ministeriale che ci darà questi limiti se come penso il riferimento sarà alla disciplina del terzo settore che anche essa ha un decreto similare bene se così fosse allora necessariamente avremo anche probabilmente lo stesso tipo di decreto che prevede un limite del 30% sui ricavi o del 66% dei costi quindi questo cosa sta a significare sta a significare che le attività diverse non potranno superare come provento il 30% dei ricavi o il 66% dei costi ma proprio perché si conosceva alla specificità del mondo sportivo una serie di ricavi potenzialmente di attività diverse non entrano in questo computo mi sto riferendo alla sponsorizzazione mi sto riferendo alla pubblicità la gestione dei pianti sportivi quindi diciamo che abbiamo una serie di ricavi importanti per il mondo dello sport che sono passativamente elencati nel decreto che come tali non rientrano in questo concetto di attività diverse e quindi come tale non impongono non pregiudicano la circostanza diciamo così di poter perdere la essenzialità dell'attività sportiva ultima considerazione terzo settore sono sempre di più le associazioni sportive e tantistiche che hanno assunto anche la veste di associazioni di promozione sociale bene diciamo che il decreto collettivo è andato a limare quelle che potevano essere dei dei contrasti quelle che potevano essere diciamo così delle difficoltà interpretative fra le discipline del terzo settore e le discipline dello sport e quindi le discipline vanno avanti diciamo di comune accordo quindi nulla osta a che un ente del terzo settore possa fare con attività di interesse generale la pratica di attività sportive e di rettantistiche ferma la possibilità di fare le altre attività di interesse generale che prevede l'unica circostanza è che se può fare o se dichiara di fare con attività di interesse generale attività sportive e di rettantistiche bisognerà che queste attività sportive e di rettantistiche siano certificate tramite l'iscrizione a registro di attività sportive a questo punto vorrei di dichiare quest'ultimo quarto d'ora e venti minuti diciamo così a sentire qualche a sentire qualche domanda ecco per esempio è arrivata una domanda importante amministrativo gestionale effettivamente non avevo toccato gli amministrativi gestionali cosa accade per gli istituti gestionali di fatto niente nel senso che non sono adottori sportivi per cui ad esempio agli amministrativi gestionali non si applicano le agevolazioni di cui di cui abbiamo parlato di cui abbiamo parlato per quello che riguarda il dimezzamento ma hanno i 5 mila euro diciamo i primi 5 mila euro come esenzione della ritenuta previdenziale i primi 15 mila come esenzione dalla ritenuta della ritenuta fiscale se sono effettivamente collaborazioni coordinate continuative si applica diciamo alla disciplina degli sportivi dei lavoratori sportivi se non fossero collaborazioni coordinative perché come spesso accade nelle collaborazioni amministrativo gestionali in realtà prevale diciamo così il rapporto di lavoro subordinato così come già oggi saranno ritenuti lavoratori subordinati il presidente che presta anche collaborazione sportiva il presidente che sia anche lavoratore sportivo è evidente che avrà le regole che abbiamo che abbiamo visto che abbiamo visto che abbiamo visto fino adesso un socio di un SD può prestare per l'attività di consulenza a una società commerciale bisogna capire cosa si intende è chiaro il socio di un SD può fare il lavoro che crede se per lavoro fa il consulente in una società commerciale può sicuramente farla il problema è capire e capire è capito quale ruolo ha quindi la domanda non mi è molto non mi è molto chiara allora ecco qui c'è di nuovo il ragionamento molto interessante ma anche molto complessa senza pensare a molti nuovi adempimenti ecco qui perdonatemi il dottor Alessandro Bianchini che ha fatto questa domanda spero sia ancora spero sia ancora in collegamento perché in realtà forse è uno stato chiaro all'inizio è chiaro che se voi confrontate quanto vi abbiamo detto con la disciplina dell'articolo 67 prima come lettere M del Twitter è chiaro che ci sono molti nuovi adempimenti ma è altrettanto chiaro che se ci sono nuovi adempimenti significa che avete dei collaboratori che superano i 5.000 euro e quindi significa che comunque l'articolo 67 non avreste potuto comunque applicarlo più e se non ci fosse il correttivo avreste le norme di diritto generale che prevedono ben maggiori costi e ben maggiori adempimenti scusate sarò noioso tedioso ma questo è un messaggio che purtroppo non riesco a fare capire gli adempimenti del correttivo non vanno confrontati con l'articolo 67 perché già oggi l'articolo 67 non è più applicabile nel 90% dei casi è chiaro che se me lo ho confrontato con l'articolo 67 avete ragione voi cioè nel senso non discuto ma attenzione confrontatelo con quanto gli ho detto ha detto la Cassazione e allora in quei casi chi ha detto la Cassazione che potete continuare ad applicare l'articolo 67 sono quei casi in cui non si superano i 5.000 euro e quindi è esattamente la disciplina precedente per quei casi invece che superano i 5.000 euro bene gli adempimenti di cui vi stiamo parlando sono adempimenti sicuramente e costi sicuramente di molto inferiori di quelli che ci fossero se fosse necessario applicare le norme generali di diritto del lavoro sto sempre cercando di e quindi il momento per riformare lo sport non ci sarebbe mai un momento per riformare lo sport sono 40 anni che stiamo aspettando di riformare lo sport e siamo arrivati capito in questa situazione mi creda non c'è mai un momento non bisogna avere paura io quando iniziai a fare i miei interventi formativi i miei interventi formativi in questo in questo settore mi si diceva che facevo del terrorismo perché parlavo di partita IVA perché parlavo capitoli 798 e che quindi la gente avrebbe smesso di fare attività perché io andavo a fare il terrorismo in giro molti presidenti del CONI non mi invitavano a fare lezioni nei loro città perché dicevano che io facevo del terrorismo in realtà adesso cosa sta accadendo sta accadendo che tutti quelli che dovevano smettere stanno tutti continuando quindi in realtà non bisogna avere paura capito avere paura del nuovo perché se le cose vengono fatte correttamente vedrete che gli addempimenti non sono assolutamente più gravi e ripeto quando dico correttamente dico secondo i principi della Cassazione i contratti a cavallo i contratti a cavallo ripeto vedrete che sostanzialmente per i contratti a cavallo ci sarà una sanatoria che in qualche modo comunque comunque li risolverà direi direi a questo punto direi a questo punto capito di aver risposto a tutte cosa sentite per impianti sportivi i paesi sono impianti sportivi sicuramente sì sicuramente sì adesso non è questa la sede perché altrimenti dobbiamo parlare per altre due ore di parlare anche del decreto legislativo 38 probabilmente con con la fedazione Tramand Finder faremo anche un incontro sul decreto legislativo 38 il decreto legislativo 38 è un altro dei cinque decreti legislativi che forma la riforma dello sport e che entrerà in vigore il primo gennaio del 2000 del 2023 il decreto 38 prevede appunto la definizione di impianti sportivi sicuramente le palestre sono impianti sportivi ho altre due temi due temi importanti e con questi veramente poi concludiamo perché stiamo altrimenti andando ben oltre Alfonso De Luca che saluto caramente mi dice si può parlare anche della personalità giuridica dell'ASD bene la personalità giuridica dell'ASD è l'articolo 14 del decreto legislativo 39 quindi in vigore che prevede la possibilità per le associazioni sportieri tantistiche non riconosciute di ottenere il riconoscimento mediante mia descrizione registro anche senza avere un patrimonio un patrimonio proprio cosa importantissima cosa che io giudicavo e giudico una delle cose più importanti di tutta la riforma ma evidentemente dottor De Luca la giudichiamo importante io e lei nel senso che è indietro cioè nel senso ci si arriverà però purtroppo il registro non è ancora sotto un profilo adesso dico informatico poi non ci capisco niente in grado di gestire questo settore ci auguriamo a tutti che lo sia prestissimo però al momento quella funzione quindi la possibilità di ottenere la personalità giuridica capito dal tramite iscrizione a registro capito al momento al momento non c'è speriamo che ci sia presto e me lo auguro altra 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 cosa sarà obbligatore il DVR anche senza dipendente assolutamente no c'è una domanda difficile una domanda difficile a cui ci tengo a chiarire la risposta è la mia risposta la nostra risposta come studio quindi potremmo essere smentiti domani da qualsiasi circolare dell'ispettatore del lavoro domani da qualsiasi giudice quindi veramente prendete l'attito esclusivamente personale ed è una domanda importante perché mi si chiede 18 ore settimanali sono a calcolare come media o sono a calcolare ogni settimana se io per 10 settimane lavoro due ore e per due settimane lavoro 20 sono i limiti delle 18 o non sono i limiti delle 18 io noi io e l'avvocato Giancola scusatemi quindi non c'è nulla di ufficiale in questa risposta riteniamo che sia una media e che quindi in questo caso capito comunque il rapporto possa continuare a godere della presunzione di collaborazione con di un'altra continuativa cioè quindi perché la filosofia è un rapporto con intensità più ridotta rispetto a quello che sarebbe un rapporto un rapporto diciamo subordinato a tempo pieno quindi la risposta nostra è sì è una media però ripeto e voglio essere chiarissimo potremmo essere smentiti domani da qualsiasi circolare o da qualsiasi o qualsiasi diritto o qualche sia no sorrido perché come sempre qualcuno di voi è sempre troppo gentile nei miei confronti prima o poi un seminario in presenza lo faremo chi mi ha conosciuto in aula sa che in aula do molto molto più di quello che riesco a dare nonostante i miei sforzi depito in questa senza quindi prima o poi prometto che mi muoverò da Bologna e dal mio buon ritiro e qui in un seminario in aula lo vado a fare a questo punto sono le 11.50 credo dobbiamo ringraziare la federazione italiana fitness per l'accoglienza lo spazio diciamo così che ci ha che ci ha dedicato qualsiasi ulteriore novità continuate a seguire a seguire la federazione italiana fitness perché in qualsiasi ulteriore novità vi verrà vi verrà diciamo così notificata vi verrà data vi verrà data notizia sicuramente ottimo lo spunto che ci è stato fornito oggi sicuramente dedicheremo ovviamente quando sarà passata un po' questa tutta questa mole di lavoro legata al decreto correttivo sul lavoro sportivo sicuramente dedicheremo un webinar al decreto legislativo 38 sui impianti sportivi e che ne vale la pena e quindi anche su quello capito su quello ci dedicheremo un po' di spazio noi vi ringraziamo anche l'avvocato Giancola credo vi voglia vi voglia ringraziare capito e vi salutiamo vi ringraziamo tutti grazie grazie e grazie per l'ascolto grazie